Poi chiaramente si è venuta a creare una situazione ottimale per me perché mi trovo benissimo con l'ambiente, con i compagni, quindi questa agevola sicuramente poi il risultato di vita. Anche il tipo di gioco che si fa non ti aiuta molto nel ritrovare la porta. Sì, 4-3-3 è un modulo in cui mi trovo bene perché sono un esterno di corsa, però comunque mi fanno i tre davanti e mi trovo spesso la mia domanda che c'è la porta. Anche la mancanza di un centro davanti statico ti favolisce? Ma questo non lo so, con i campagni che abbiamo le cose mi trovo molto bene, quindi riesco anche grazie a loro a dire che mi permette. Poi il più difficile, il primo posto, 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 il posto, il primo posto, il primo posto, il primo posto. era una grande occasione va bene, grazie senti, io il personale 11 psichettoni si, in mezzo a regione quindi ci siamo lavoro non ci penso onestamente perché sicuramente